E Margherita Braia del liceo Mariotti di Perugia, la vincitrice del certamen Acerranum 2019, la gara di traduzione delle Georgiche di Virgilio, disputata tra 80 studenti provenienti da tutta Italia, al liceo Alfonso Maria De Liguri di Acerra. Secondo e terzo classificati Federico Marinozzi del liceo Mamiani di Roma e Sonia Romani del Carducci di Nola. Alla studentessa Amelia Serafino dell'Olivetti Panetta di Locri, il premio Accademia Nazionale Virgiliana di Mantua. La commissione giudicatrice ha scelto per la traduzione di quest'anno un testo dal primo e dal secondo libro delle Georgiche, il testo virgiliano destinato a celebrare l'operosità dei Romani e il valore del lavoro umano purtroppo spesso minacciato, ciò appariva vero duemila anni fa e appare vero anche oggi, così il professor Crescenzio Formicola della Federico II ai nostri microfoni. Quella che un tempo veniva definito il giardino dell'impero, adesso cioè l'Italia, adesso è con la T maiuscola la terra, direi la nazione dei fuochi, così come adattabilissimo è il discorso che porta avanti Virgilio, il quale dice che nonostante la fatica dell'uomo incessante, dell'uomo e del bue, egli dice, nonostante tutto ciò, ecco che ci sono delle varie pestes, dei malanni terribili, svariati, che intervengono a rovinare, a vanificare l'impegno costante dell'uomo portandolo addirittura alla morte. Durante la premiazione gli studenti del progetto Teatro Classico si sono esibiti in un abstract dell'antigone di Sofocle, soddisfatto Carmine De Rosa, dirigente scolastico del liceo Alfonso Maria De Liguori. Questa attività è rivolta ai ragazzi che in qualche modo sono già delle eccellenze, perché hanno pensato a un progetto di vita importante e quindi per realizzare questo progetto c'è bisogno anche di creare i presupposti, quindi frequentare un liceo classico, un liceo scientifico, è l'inizio migliore per poter poi fare un percorso veramente importante nella vita. Puntare tutto sulla cultura, questo è il pensiero del sindaco di Acerra, Raffaele Lettieri. Da qui parte il riscatto di Acerra, ormai è stato innescato un meccanismo virtuoso che non si fermerà più.